Siamo con il consigliere comunale di opposizione Vincenzo Santagata, che si è candidato sindaco con la lista giovani per Gricignano. Consigliere, con lei faremo il bilancio del primo anno di amministrazione Moretti. Innanzitutto, che giudizio dà? È passato oltre un anno. Le elezioni ci sono state a ottobre 2012. In questi 14 mesi, ormai quasi 15 mesi di amministrazione, penso che si sia già delineato quello che sarà sicuramente l'andazzo, lasciatemi passare questo termine, di questa amministrazione. Si è fatta una campagna elettorale con grandi annunci e grandi proclami. Si dava per scontato che un sindaco esperto, quale è Moretti, avrebbe dato un cambio di passo all'amministrazione. Avrebbe rivoltato Gricignano, l'avrebbe migliorato sicuramente in breve tempo. Lui disse alla fine del suo discorso, quando fu eletto, che in 100 giorni avrebbe praticamente cambiato Gricignano. Sono passati, lo dicevo appunto poco fa, 15 mesi. In questi 15 mesi poco o niente si è visto. Vediamo che la viabilità è sempre allo stato disastrato che era prima del suo insediamento. vediamo la segnaletica che ormai si va distruggendo, l'emergenza dei rifiuti, l'isola ecologica, tanto per citare qualcosa, che doveva essere aperta il primo gennaio 2013. Vi è ancora in essere un'ordinanza sindacale di apertura e che adesso ha fatto un compleanno, un anno. A distanza di un anno quest'isola ecologica ancora non parte, benché sia in essere quella ordinanza. Quindi, alla luce di tutti questi fatti, come poter dare un giudizio positivo su questa amministrazione? Sicuramente è un'amministrazione che sta tirando a campare, non dà segnali, non dà nessun segnale che si possa uscire da questo tunnel ai nostri concittadini. Io spero che si dia un cambio di rotta, altrimenti non vedo alternativa, se non quella che diano le dimissioni, perché non credo che si possa ancora continuare con questo andazzo. Lo scorso novembre è stato approvato il bilancio di previsione. Lei è fra l'altro un tecnico, un esperto, ha analizzato i numeri. Che idea si è fatta? Senza voler entrare nei tecnicismi, anche perché difficilmente ci si riuscirebbe a far comprendere da chi non è del mestiere, è un bilancio onestamente tirato un po' con i capelli. Non vedo in questo bilancio nessun tipo di programmazione, soltanto copertura di spese obbligatorie per legge, tra parentesi, quindi copertura della Tarsu, copertura dell'Imu, spese ordinarie, quindi gli stipendi e altre cose del genere. Non c'è programmazione, sicuramente è vero che siamo praticamente alla fine dell'anno, ma non si vede nessun tipo di programmazione che possa anche essere messa in campo nel 2014, perché come ben sapete dal primo gennaio del 2014 si lavora in dodicesimi rispetto al bilancio del 2013. Come non c'è stata programmazione per il 2013, sicuramente non ci sarà programmazione per il 2014. In questi giorni il dibattito politico cittadino si è animato per la perdita di un finanziamento della provincia, un finanziamento di circa 59 mila euro relativa alla incentivazione della raccolta differenziata. L'opposizione ha duramente attaccato la giunta Moretti, perché? Eh beh, per due ordini di motivi. Il primo è perché in un comune, in una zona come la nostra, in un comune come il nostro, dove c'è una grande necessità di incentivare la raccolta differenziata, avere un finanziamento di circa 60 mila euro per meglio lavorare sarebbe stato sicuramente opportuno e quindi si è perso un finanziamento che, benché piccolo, ma comunque strategico per questa tipologia di attività. E l'altro punto è per la motivazione per cui si è perso questo tipo di finanziamento, per un errore formale. C'è la mancata sottoscrizione della richiesta di finanziamento, fa venire fuori il pressappochismo oppure la superficialità con cui si sono fatti questi atti. Quindi ancora di più, ancora più duramente, questa questa amministrazione va condannata. Si tratta fra l'altro del secondo finanziamento che l'amministrazione comunale perde, un altro riguardava l'utilizzo di un bene confiscato, anche allora l'opposizione ha attaccato la maggioranza. Il sindaco si difese in quella occasione dando la responsabilità all'allora dirigente del settore lavori pubblici, l'ingegnere padarmiti. In questo caso ci può essere una responsabilità del tecnico, cioè dell'architetto cavaliere? Penso che la responsabilità in questo caso sia anche e soprattutto della politica. La politica non può dire io do l'indirizzo, poi tocca al tecnico lavorare, altrimenti non ci sarebbe bisogno di eleggere gli amministratori. Faremo gestire i comuni dai tecnici. Se ci sono degli amministratori eletti dal popolo è perché gli amministratori hanno l'obbligo, il dovere morale, ma anche e soprattutto di mandato, di gestire la cosa pubblica, l'amministrazione, ma soprattutto non soltanto di dare l'indirizzo politico ai tecnici, ma anche di controllare che poi questo indirizzo venga assolto nella maniera corretta e quindi hanno anche l'obbligo di sorvegliare che il loro indirizzo venga portato poi a compimento. È troppo semplicissimo dire che è colpa del tecnico. Sicuramente gran parte della colpa io la do anche e soprattutto alla politica. In quel momento non dimentichiamo che il sindaco si giustificò dicendo che era colpa del tecnico e quella colpa gli costò l'incarico a Padermiti. Oggi siamo più o meno forse nella stessa situazione, vedremo quali sono le conseguenze che prenderà il sindaco. Tiene banco anche la polemica sulla chiusura di una parte del complesso sportivo falciano? Lei chiederà chiarimenti su questo aspetto. Tiene banco questa cosa perché riguarda parecchi gricignanesi che hanno i figli iscritti o alla scuola calcio oppure in piscina. Mi risulta che il 27 o 28 di dicembre i vigili del fuoco siano andati al complesso sportivo e abbiano decretato la chiusura del complesso per l'inagibilità degli spogliatoi del campo di calcio. In realtà poi parlando con persone ma anche con lo stesso gestore o con qualcun altro che lavora all'interno della struttura ho saputo che ci sono problemi strutturali anche alla piscina. Quindi prima di poter dare un giudizio sulla questione, un giudizio compiuto sulla questione vorrei vedere tutti gli atti, tutte le comunicazioni che sono divenute al Comune da parte del gestore dell'impianto sportivo. Volevo vedere anche il verbale dei vigili del fuoco che hanno praticamente decretato questa chiusura e soprattutto volevo vedere anche se ci sono delle relazioni o dei verbali da parte del nostro ufficio tecnico, l'ufficio tecnico comunale per capire poi in realtà come hanno trovato gli impianti e se effettivamente ci sono queste carenze strutturali. Soprattutto per sapere se i nostri figli sono stati in questo periodo in una struttura sicura. Lei al momento non è iscritto a nessun partito politico, sappiamo che il PD già da un po' di tempo la corteggia, è interessato al partito di Renzi. Certamente posso dire che Renzi come politico, come segretario del PD onestamente mi piace molto più dei vecchi segretari di partito ma anche soprattutto per la ventata nuova di giovinezza ma anche di idee nuove che ha portato nel partito. Quindi onestamente non escluderei in futuro di poter aderire al partito di Renzi. Ovviamente oggi è ancora in uno stato embrionale il partito, è ancora in una rivoluzione in divenire. Vedremo un pochettino cosa succederà in futuro e in futuro prenderò le mie decisioni in merito. Alla luce di un suo eventuale passaggio nel PD si potrebbe anche configurare un'altra ipotesi, cioè quello di un passaggio nella maggioranza o comunque un sostegno, seppur anche all'esterno, della giunta Moretti. Lei ha smentito qualche tempo fa queste ipotesi, però io aggiungo in politica mai dire mai. Beh, questo è uno dei motti della politica che sento sempre più spesso. In politica mai dire mai, certamente, però c'è anche da dire che, anche da utilizzare un altro detto gricignanese, che quando ci si fidanzia si si fidanzia in due e in questo momento non c'è stata nessuna richiesta di fidanzamento né da una parte né dall'altra. Ma a parte gli scherzi, beh sì, ho dato già una risposta a chi pensava che io potessi aderire al PD e quindi attraverso questo cavallo di Troia fare un passaggio in maggioranza. Sicuramente non ci sono le condizioni. Sicuramente se ci sono, io l'ho detto varie volte, l'ho detto anche in Consiglio Comunale. Se ci sono delle idee che servano per dare un contributo a gricignano e queste idee vogliono essere da parte della maggioranza condivise con noi della minoranza, saremo sempre disponibili, io Vittorio, ma credo anche l'altro consigliere di minoranza di Luise, saremo sempre disponibili a dare il nostro contributo perché queste idee possono sempre più essere migliorate.